Buonasera, ciao a tutte. Allora, normalmente non faccio i video tag perché li trovo un po' noiosini, però questo qui mi sembra carino perché mi dà modo di dire qualcosa di me che magari voi ancora non sapete o che sicuramente non sapete e perché in fondo a chiacchierare mi piace. Quindi farò questo video tag che si intitola Sparliamone. Me ne avete parlato voi, mi avete mandato le domande, grazie. Adesso rispondo. Allora, nome, età e città. Il mio nome è Alida, età 30, città Torino. Professione, diciamo brevemente, impiegata. Tatuaggi non ancora, non ne ho ancora fatti perché non ho trovato ancora un disegno, un'immagine, cioè in realtà ho delle idee, devo metterle in pratica e poi non mi piacciono piccoli tatuaggi, mi piacciono grossi, quindi visto che nei momenti in cui ne farò uno sarà grosso, devo pensarci bene. Poi, segno zodiacale, scorpione. Colore preferito? Dipende. Abbigliamento mi piacciono nero e bianco, per i trucchi il marrone, per l'aredo della casa ho molto rosa e molto viola. Poi, o piercing? Sì, parecchi. O ragazzo? No. Da quanto? No. Se potessi cambiare qualcosa di te, fisicamente e caratterialmente? Allora, fisicamente, metterei a posto le orecchie a sventola e stringerei un po' i fianchi. Caratterialmente vorrei essere un po' meno pieni ucolona. Ho migliore amico? Hai migliore amico, amici? Sì. Ho delle carissime amiche. Alcune le avete anche viste e ne sono proprio felice. Se dovessi scegliere un prodotto solo per truccarti, cosa sceglieresti? Non lo so, dipende dalle stagioni. D'estate vi direi un lip gloss, d'inverno forse una terra abbronzante. Ti senti bella? Dipende dai giorni e dai periodi. Normalmente è abbastanza. La tua marca preferita di cosmetici? Non ne ho. Ultimamente però ho riempito molto Neve Makeup, quindi sto comprando molto di Neve Makeup. Ovvio, avessi tanti tanti soldi, probabilmente mi butterei su Chanel e Lancôme, però diciamo Nelle Makeup. Cosa non può mancare nella tua borsa? Il cellulare e le chiavi e il portafoglio. Collant o leggings? Ultimamente leggings. Tacchi o scarpe basse? Scarpe basse di giorno per andare in ufficio, tacchi alti quando voglio fare la pega. Accessori o no? Sì. Sì, però non tanti. Se metto gli orecchini non metto la collana, se metto la collana non metto gli orecchini e cose del genere. Il Makeup preferito? Che vuol dire? Boh, direi comunque sui toni del marrone e con le luci da labbra. Mi piace anche l'eyeliner, i brillantini, i luci della labbra, tutto. Hai mai tinto i capelli? Sì, li tengo tuttora. Ti tatueresti le sopracciglia? Ho un buco qui, in un sopracciglio, a causa di una depilazione troppo selvaggia anni fa, non mi stanno crescendo, quindi farei giusto il tatuaggio del buchino che manca. Per il resto no, mi sembrano un po' volgari, però se fate bene l'effetto è bello, ma su di me direi di no. Matt o Shimmer? Direi Shimmer, Shimmer mi piace. Lucido o rossetto? Lucido, oppure è rossetto più lucido? Tutto. Inverno, estate? Estate assolutamente. La mia festa preferita? Un tempo vi avrei detto al Natale, adesso non lo so. La mia festa preferita? No, non lo so. Di una frase in dialetto, non so parlare nessun dialetto. Fai la linguaccia? Linguaccia? Fai una faccia brutta? Di una parolaccia? Ciao! Faccio una piccolissima aggiunta. Se avete effettivamente delle domande da farmi, fatele pure, io magari poi le raccolgo e faccio un videino e vi rispondo tutte insieme. Ciao!